Inioffo, ci avete provato in tutti i modi in questo secondo tempo, grandi parate da parte del portiere molisano, la prestazione rimane? La prestazione è il punto dove noi dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto una prestazione importante, i ragazzi erano stremati e delusi ovviamente per non aver riuscito a portare a casa i tre punti, però ho detto di stare sereni perché nelle partite che abbiamo giocato forse questa è la prestazione dove abbiamo creato molte più palle e golle, però non ci siamo riusciti a buttarle dentro e siamo stati ovviamente costretti a subire su due nostri errori, ingenuità, due golle che poi hanno marcato il risultato, però la squadra mi è piaciuta tantissimo, ho tolto i primi dieci minuti che era un po' in uno stato di approccio particolare, poi i ragazzi sono venuti fuori alla grande anche nel secondo tempo, nel finale di primo tempo abbiamo creato altre due o tre situazioni dove il portiere è stato miracoloso, ha parato due doppi interventi sulla linea, poi nel secondo tempo abbiamo fatto tutto quello che era possibile per poterla vincere, qualche errorino c'è stato ma ha fatto solamente di volontà di voler far di più e questo a me già va bene. Ecco però un primo tempo come approccio un po' troppo timido dopo almeno per mezz'ora, poi chiaramente dopo il gol del 2 a 1 c'è stato anche il 2 a 2 loro e soprattutto due grandi parate proprio nel finale di tempo, come se lo spiega? È stato un approccio sicuramente un po' con le corde e i motori frenati, però ci può stare, sono comunque a prescindere da quello che è stato l'approccio abbastanza soddisfatto anche del primo tempo, sicuramente abbiamo pagato veramente a caro prezzo le due o tre ingenuità e che poi fanno sembrare una prestazione scialba del primo tempo ma non è così perché ci sono state tante buone manovre, tante situazioni dove abbiamo sviluppato bene siamo riusciti ad arrivare alla conclusione, 5-6 volte a cross, quindi non tanto, abbiamo pagato secondo me quei due errori che ti danno un'impressione diversa però poi la squadra ha continuato a macinare, nel secondo tempo fino agli ultimi palloni siamo riusciti a creare anche una palla golle clamorosa con Diddio che non è riuscito poi a calciare bene, però tutto sommato dobbiamo continuare su questa strada e pensare a lavorare perché siamo sulla strada giusta Nel secondo tempo intorno alla mezz'ora si è arrabbiato molto per quel presunto tocco con un braccio? Qua c'è da scrivere film e libri perché sicuramente se saremmo stati in un'altra categoria probabilmente attraverso le televisioni a mio avviso concedevano il rigore l'arbitro mi ha detto che l'ha vista attaccata al corpo però poi stasera per non voler polemizzare vorrei guardarlo io in prima persona in maniera attenta ma una volta che l'arbitro decide, decide L'ultima sul pubblico? Pubblico spettacolare, queste sono partite che veramente tutti i giocatori ma anche gli allenatori vorrebbero giocare c'è da fare un applauso per come ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo e per l'incoraggiamento anche nel filare di partita speriamo di poter continuare su questa traccia e cercare anche di portare più gente allo stadio perché per noi sarebbe un grande successo e sarebbe anche sinonimo di un buon lavoro e di buoni risultati Grazie 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 Grazie